Siamo a ridosso della settimana santa, quindi l'argomento viene logico perché si parlerà della passione di Cristo e la sindone si può dire che è un quinto Vangelo scritto proprio col sangue di Cristo perché è il lenzuolo funebre in cui lui è stato avvolto, in cui ha lasciato anche impressa la sua immagine in una maniera misteriosa. Monte Fusco ha una tradizione diciamo di appartenenza ai luoghi della passione perché conserva una delle sacre spine della corona di spine di Cristo. Quindi è un ritorno il mio, io sono già stata una volta e sono invitata di nuovo adesso anche perché è uscito il mio nuovo libro, la sindone storie e misteri e in questo libro io aggiungo novità soprattutto sulle fonti islamiche che ci confermano che questo prezioso lenzuolo è stato custodito nel sud-est della Turchia nei primi secoli. Ma non dico di più perché poi ci saranno le novità quando verrà appunto fatta la conferenza quindi sono felice di questo invito perché vuol dire che c'è interesse e c'è ancora desiderio di sapere di più di questo venerato lenzuolo. Ecco, qual è il fascino della sindone? Perché se ne parla ancora tanto in toni anche ricchi di mistero? Perché il corpo che è stato avvolto in questo lenzuolo, a differenza degli altri cadaveri, non ci è rimasto. E' stato calcolato dal grado di ridiscioglimento delle macchie di sangue che è stato nel lenzuolo circa 36-40 ore. Cioè il cadavere fu messo con ormai le croste di sangue già secche, fu tolto dalla croce circa due ore e mezzo dalla morte con il corpo già in stato di rigidità cadaverica. Non avrebbe dovuto macchiare il lenzuolo questo sangue secco ma il lenzuolo era imbevuto di oli profumati che hanno parzialmente ridisciolto questo sangue. Quindi sappiamo il tempo di contatto del corpo con il lenzuolo. Ma la sorpresa, il fascino è che questo cadavere non ha lasciato solo le macchie di sangue ma anche un'immagine fotografica di se stesso, come un negativo fotografico.